Una festa di sport, prevenzione e solidarietà nello spirito del cartellone, l'Aquila rinasce con lo sport. Questo lo spirito della stracittadina Città dell'Aquila, disputata domenica 28 maggio all'Aquila, gara del circuito Corrimaster. Gara che è stata in grado di coinvolgere oltre 500 podisti tra 103, tra bambini e ragazzini. A proposito di bambini, con il pettorale numero 634, la maglietta bianca, una medaglia e un ciuccio ad aspettarlo all'arrivo tra le braccia di papà Michele, Davide Tetè ha un anno di vita ed è stato premiato come il più giovane concorrente di sempre. Ad avere la meglio nella gara con il tempo di 32.07 è stato Daniele Marcelli dell'Associazione Atletica L'Aquila, ma la festa è stata per tutti, runner abituali e podisti occasionali. Tra le donne, la migliore è stata Barbara Mariano, con il tempo di 42.47, seguita da due runner della società organizzatrice Atletica Bruzzo L'Aquila, Claudia Gabrielli e Francesca Pesce. Un pettorale speciale è stato consegnato dal presidente di Atletica Bruzzo L'Aquila, Walter Paro, all'assessore comunale allo sport Vito Colonna e al presidente del comitato esecutivo di L'Aquila Rinasce con lo sport, Francesco Bizzarri. Testimonial di questa manifestazione, Margherita Magnani, ex campionessa italiana di mezzo fondo, rappresentante della Guardia di Finanza, che ha schierato un centinaio di cadetti nella prova non competitiva. Perché sono importanti giornate come questa? Lo sport riesce a trasmettere molti valori, cioè valori come la lealtà, la fratellanza, l'unità e l'amicizia prima di tutto. Quindi al di là dell'aspetto agonistico è importante sostenere queste manifestazioni. Oggi per essere un atleta quali regole bisogna seguire? Beh, senza dubbio il fair play e non tanto delle regole ma il rispetto delle regole. Perché la prima cosa che viene insegnata è il rispetto dell'avversario e il rispetto di se stessi. Quindi il rispetto di se stessi significa anche nello sport per esempio non fare assunzioni di sostanze doppanti.